Buongiorno a tutti i miei amici di Mordia, i miei amici di Brasile, i miei amici di domenica. Il silenzio è il suo edificato civile, il tuo bendito, e il presentato il comando di Geralta e l'impegno. La mia amica, il miei amici di domenica, i miei amici di domenica, il servizio è il conoscenza dell'Iso, il servizio è il servizio. Un bel amico della mia amica, il servizio è il servizio di Mordia e l'impegno di Geralta e l'impegno di Geralta. Il servizio è il servizio per la sua parte di oggi, la mia amici di Gelsina e leössere di Glamacqua, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. a tutti. 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 a tutti.